Musica La mostra entra in un progetto di mondo in cammino su una campagna che è incominciata diversi anni fa che si intitola Dar Voce alle Voci Nella nostra esperienza di volontari ci siamo resi conto noi ci occupiamo soprattutto di due aspetti uno riguarda il nucleare, Cernobil e l'altro riguarda il Caucaso, la Cecenia e zone dove ci sono conflitti ci siamo resi conto che c'è qualcosa che non quadra e questa impressione ce l'ha data soprattutto due nostri amici siamo venuti in contatto in Bielorussia con una persona il professor Bandagensky che solo per il fatto di aver detto la verità sulle ricadute di Cernobil è stato arrestato poi è stato liberato dietro a una grande azione di Amnesty International adesso vive esiliato e questo solo perché ha detto quali erano le ricadute dell'incidente nucleare dopo Cernobil voi sapete c'è stata un'altra grande tragedia c'è stata Beslan noi ci siamo rivolti anche lì anche perché avevamo in qualche modo esperienza nell'accoglienza dei bambini di Cernobil quindi abbiamo pensato di accogliere i bambini di Beslan andando a Beslan nel Caucaso del Nord siamo venuti in contatto con la realtà conflittuale che c'era e poco per volta abbiamo anche seguito le orme di una donna coraggiosa che in qualche modo aveva raccontato la verità e questa donna era Anna Politoschia quindi ci siamo resi conto che in due realtà così distanti a migliaia di chilometri avevamo incontrato due persone che sono diventate amiche dell'associazione uniti da un filo rosso quello della verità quello della verità che non viene detta quello della verità che non viene raccontata quello della verità per cui le persone che la raccontano in qualche modo vengono colpite abbiamo fatto diverse iniziative finché abbiamo deciso di fare quest'ultima che è Vainaki il sogno, il segno della pace il sogno, il segno della pace deriva dal fatto che con noi in questa avventura in questo tour itinerante che stiamo facendo in Italia c'è Adran Mukamiedov che è presidente dell'associazione Salviamo la Generazione che è partner con noi anche lui è stato minacciato anche lui sta cercando di portare la legalità soprattutto tra i giovani in Cecenia e il suo sogno è quello di arrivare ad una Cecenia da un caucoso pacificato Mi chiamo Adran Mukamiedov Io presento l'organizzazione pubblica «SpaSion Pokolenie» Io sono già treti rivoluzionari di questa organizazione due precedenti rivoluzioni sono stati ubiati e dopo il terzo tragico in 2009 l'organizzazione che è arrivata a noi è stata Monde in Camino questo è stato un periodo molto difficile abbiamo non aveva finanziamento non aveva finanziamento per cui io, ovviamente, ringrazio Massimo e l'associazione in tutto noi realizziamo совmattamente proiecti con Monde in Camino il segno della pace è dato appunto dai quadri di Asia Umarova Asia Umarova nei suoi quadri descrive in qualche modo qual è la sua esperienza di giovane donna che ha vissuto il periodo delle due guerre in Cecenia e quali sono le sue aspettative per il futuro ecco abbiamo voluto unire queste due persone per dare loro voce per raccontarci di una realtà che a noi sembra molto distante quindi non ho mai visto e non ho visto e ne buono comune nel mondo in cerno e bese e poi in ultima in cui ho iniziato ho fatto la rosa in cerno batmane usando solo cerno 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 Il problema in Cavaca è molto importante, ma per il territorio Cavaca non è così grande. Ci sono stati vecchi, ma ci sono problemi e ci sono rischi. Stiamo aiutare a comprare a questo народo, grazie a sottolineare dei proiecti, in cui in cui iniziavano i nostri amici. C'è una temata che presenta nella mia immaginazione, sono i problemi, 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 i problemi. E alcuni credono che in cui si trova un filosofo, alcuni credono che inizia più psicologicamente, alcuni credono il giurna, alcuni credono la scuola, alcuni credono la scuola. Ma questo non è così, io sempre starò, per la risposta e la risposta, e la risposta, e la risposta. Grazie per la risposta e la risposta. E io vorrei terminare solo dicendo che Natalia Stemiroval, che è stata uccisa, che era quella che aveva preso il testemone di un'altra, Anna Politoschia, diceva, non dimenticatevi che la Cecenia si trova in Europa. Questo è l'unico angolo di Europa non ancora pacificato e noi cerchiamo in qualche modo di far conoscere e di dare la voce a questi due protagonisti che sono qui con noi. Grazie per la visione! Grazie per la visione!